Buon pomeriggio a tutti, oggi è giovedì 17 novembre, sono le 16.10 e stiamo andando a scendere sull'SMP500. Scendere però su che cosa? A parte che siamo arrivati leggermente sotto la media mobile a 200 periodi, stiamo scendendo su un bisettimanale inverso che si è già vincolato completamente a far salire i prezzi. Quindi, essendo arrivato in decimo ciclo giornaliero, ha invertito la tendenza, vedete che avevo detto si può scendere, sceso, per poi salire, saliti, ok, quindi adesso liberiamoci di questa roba gialla, che era per dare l'idea di che cosa ci si aspettava, e, partito effettivamente da qui il nuovo settimanale inverso, quasi certamente, anzi, certamente è partito da qui il nuovo settimanale inverso, dobbiamo ragionare sul tempo. Prima di tutto, almeno 48 barre sotto un massimo, ce l'abbiamo già. Lo swing? Sappiamo già se abbiamo uno swing, e a questo punto ragioniamo anche di indice. Si può chiudere un settimanale con un T-3 ribassista, che in realtà è persino un T-1, un ciclo a 3 giorni ribassista da qui a qui, caspita se si può chiudere, e non soltanto un settimanale, si può chiudere anche qualche cosa di più. Vi faccio un esempio. Con 16 barre non siamo andati da nessuna parte. Adesso che siamo arrivati a 26, possiamo essere in chiusura di questo mensile? Sì, se avessimo un T-1, esatto, proprio quel T-1 di cui vi dicevo, 1, 2, 3, 3 tempi, 3 cicli giornalieri, fanno un T-1 breve, non a 4 tempi, non a 5 tempi, ma a 3 tempi. E quindi qui abbiamo la condizione necessaria e sufficiente per rimbalzare. Quando vuole? Nei tempi che vuole. Ma abbiamo già la possibilità di rimbalzare e siamo a 41 barre sul massimo 44. Quindi, che cosa facciamo? Prima di tutto, ci atteniamo alle regole. In questi giorni sto parlando delle regole dappertutto. Perché? Perché se non si seguono le regole in un gruppo, si crea caos. Perché se non si seguono le regole nel trading, si crea caos. Se non si hanno le regole chiare, c'è caos. Per cui, seguendo le regole, aspetteremo fino a che ora per arrivare alla 44esima barra eventuale. Aspetteremo fino alle 16.45. Vedremo se si è fatto un minimo assoluto. E a quel punto vedremo che rimbalzo potremo avere. Perché? Perché, come detto, abbiamo la condizione necessaria e sufficiente per essere arrivati al terzo ciclo settimanale di un mensile che è già a 10 barre sul massimo 11. Metteteci anche un raccordo. Abbiamo due possibilità di scendere contro molte più di salire. E di andare a fare quel target. Tra l'altro, vi faccio notare che il movimento è questo. Abbiamo posticipato leggermente la salita. E questo è quello che ci si aspetta, sostanzialmente. Lo metto solo un po' più in giù perché è sempre abbastanza fastidioso. Adesso dovremmo riportarlo qui sopra. Quindi facciamo ancora così. Tornare qui sopra. Perché abbiamo un bisettimanale vincolato a salire. Vincolato a ribasso per l'inverso. Mensile che fino a che durerà sarà vincolato ad aggiornare i massimi. Perché è totalmente vincolato a ribasso per l'inverso. Quindi salita di prezzi. Qui abbiamo una possibilità, come detto ancora, a parte oggi, di scendere contro vari di poi salire. E di salire non soltanto per far partire un quarto ciclo settimanale. Ma anche per far partire eventualmente anche un nuovo mensile. Perché qui abbiamo la condizione necessaria e sufficiente per la chiusura di questo primo mensile. Ecco perché non ho ancora aperto uno short. Perché, come vi dicevo, andando a vedere questa notazione che avevo fatto, bisettimanale l'inverso, non solo un settimanale. Sapevo che se anche fossimo arrivati qua, poi partiva ancora un settimanale inverso. E le chance che si va da target sopra i 4028 sono tante, veramente tante. Per cui, questo è quanto. Può starci un raccordo di qualche genere? In questo momento no. Perché? Perché avremo già tre barre. Uno, due, tre. Tre barre sono un t-1. Un t-1 come raccordo inverso può solo starci tra un mensile e un mensile. In ogni caso, anche se, qui, allora, può essersi chiuso un mensile inverso qui? Sì. Se anche facessimo una finta a ribasso, poi torneremo a salire e quindi parterebbe anche il mensile di indice. Per cui, in ogni caso, raccordi, non raccordi, è tutto quello che volete. Il movimento che ci aspettiamo è questo. Di salita sopra i massimi, con il target già dato nella precedente analisi. Dovunque passerà la media mobile a 200 periodi, quello è il nostro target. E, di nuovo, la scansione ciclica, essendo questa, non essendosi potuti chiudere se non qui o qui, ma vediamo se possiamo esserci chiusi qui. Vediamolo subito. Si può arrivare a 39 barre? Sì. Ci sta ancora. Ma poi si inizia a scendere presentemente. Per cui abbiamo una violazione forte di un minimo che ci dica che si sta scendendo pesantemente. Perché, come vi dicevo di consueto, io mi tengo sempre una centratura importante e la più corretta a livello di regole sotto il naso. Proprio controllo. Controllo perché? Perché non voglio farmi fregare dagli indici. Se qui siamo a 31 si può ancora tornare a salire. Se invece qui ci fermiamo a 39, qui abbiamo delle opportunità, perché da qui può partire qualcosa di nuovo. Ci salva, come detto, per ora, il discorso del bisettimanale, fatto in termini di swing e di tempo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette giorni. Molto più di quello che serve a far partire un bisettimanale, un T più uno, inverso. Lo swing violato, per cui l'aspettativa principale è quella di salita. E continuiamo a tenere questa come aspettativa di secondo mensile inverso, e qui mancano perlomeno uno, due, tre candele, oltre a quella di oggi, per tornare sopra i massimi, chiudere e avere la condizione necessaria e sufficiente per la chiusura. Non soltanto di questo mensile inverso, non soltanto potenzialmente di questo trimestrale inverso, ma di anche tante altre cose di cui però non vi parlo più, perché ne abbiamo già parlato nell'analisi precedente. E quindi non sto a ripetervelo. Sul ciclo giornaliero, come detto, attendiamo il tempo, vediamo se ci sarà rimbalzo, vedremo se supererà determinati swing per 10, è partito un nuovo T settimanale, nel caso long. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata. Se questa analisi gratuita vi ha dato tanti spunti informativi, mettete un bel like, perché è come darmi una pacca sulla spalla per tutto lavoro totalmente gratuito che faccio nei confronti del circolo virtuoso. Buona giornata!